La storia del DLC numero 16 continua, infatti è già uscito il primo episodio sul mio canale, correte subito a recuperarlo e correte a recuperare anche lo showcase di Gohan Beast, un personaggio nuovo aggiunto col sedicesimo DLC ed è forse uno dei migliori di sempre mai aggiunti, con una suprema pazzesca, vi vedrete urlare, quindi recuperate entrambi questi video che sono sicuro vi piaceranno. Ed eccoci qua quindi con questo secondo episodio della storia e andiamo a continuare la sta storia. Kaioshin del tempo, sono felice di vederti, questa faglia dietro di me è quella faglia menzionata da Fu, infatti si parlava di questa faglia particolare, speciale, che aveva menzionato Fu. Di che si tratta? Premiamo sì e andiamo subito a scoprirlo, ma prima voglio un pollice in su, ora vi voglio carichi al massimo ed iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche. E ci siamo! All'improvviso parte un nuovo filmato in computer grafica, voi non avete idea di quanto mi piacciono? NANDA, MOOOOO ARI! Ii toco da attano ni! Otscarysama desu, utari tomo! Sassuga desu, ne? Tottemo ii deeta ga toleました! Sassuga! Ragazzi allora questa cosa Permettetemelo È spettacolare Veramente molto bella Vedere l'android numero 21 Con gamma 1 e gamma 2 Che alla fine E poi c16 Vi ricordo che L'androide 21 È la mamma di C16 Giusto per mettere le cose in chiaro E poi divertentissimi gamma 1 e gamma 2 E all'improvviso Finisce il filmato Ma ci ritroviamo in città col mio patroller Riesci a sentirmi? Bene Tecnicamente è tutto a posto Scusa se mando solo te In una missione così pericolosa Ma avevo bisogno che Trunks Si occupasse di una faccenda urgente Sì ma scusa Sono anni che troviamo scuse Di sto Trunks che deve fare altro Ma se è una cosa così grave Fallo veni con me Come di certo saprai Gamma 1 e gamma 2 Non hanno alcun ricordo Di quando hanno combattuto Al tuo fianco Ecco Diciamolo Meglio non averli come nemici Ho bisogno che usi La massima descrizione Perciò non farti scoprire Unica cosa Così dal nulla Vediamo Sto Fu Che È in combutta Con l'android 21 e C16 Per quale motivo Provengono tutti Da faglie differenti Credo di sì Cosa ci fanno A West City Ah e c'è pure Piccolo Attenzione Che ci fanno qui Abbiamo già una seccatura Di che occuparci Gohan Ok Andiamo a vedere un attimo Che succede Gamma 2 si ferma Perché Ha individuato Piccolo forse Uh un altro filmato Ma quanti ce ne stanno Piccolo Piccolo 急amente Damate Tuite E tu 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 Oh la trasformazione Cioè il potere risvegliato E tu 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 Ti spiegherò dopo Così dal nulla All'improvviso risveglia Il potere Mi fa veramente Tanto piacere Che ci siano tanti filmati In computer grafica Perché a me piacciono un botto Il Red Ribbon Va all'attacco Guarda l'immagine Di Dottore Edo E così Avete gettato la maschera Oggi dovevamo fare Ricognizione Invece Pare proprio che passeremo Alle operazioni di polizia Gamma 1 e gamma 2 Androi e 6G Mettete in mostra Tutta la vostra forza La squadra di Bulma Che energia incredibile Fate attenzione gente Quindi ora Noi combatteremo appunto Oh ma che è C16 Un momento Non ricordo di averli visti Nel database Allora Subito in forma beast Via Anche se non abbiamo dati su di loro Devono comunque essere fermati Gli eroi come noi Non possono soccombere Alle macchinazioni Organizzazione malvagia Ma che sta succedendo qui Perché 16 e 21 Sono in questa linea temporale Infatti Ben detto E poi il Red Ribbon Non dovrebbe interagire con Gohan E gli altri così presto E infatti Qua come al solito Fu Fa un casino Ogni modo Il fatto che il Red Ribbon Sia qui è un problema Cerca di occupartene E tranquillo Lo faccio subito Dammi un attimo E lo facciamo Purtroppo In questa build Non ho messo il canone Dell'anima speciale Ma lo metterò E vi dico Fin da subito Che ragazzi Io ho provato Anche tutti gli altri personaggi Oltre Gohan Beast Li ho già registrati I vari video Tranquilli E arriveranno In giornata Cioè Arriveranno uno dopo l'altro Poi sbloccheremo anche Le nuove Supreme Di Gohan Beast E di Orange Piccolo Ragazzi Vedrete tanti video Così come poi Per le missioni parallele C'è di tutto e di più In questo DLC Peccato Che sembra Non ci siano Le Le nuove miniature Per l'Iro Colosseum E quindi Non possiamo fare I nuovi capsule opening Doppi e tripli Questo è Proprio un peccato Vediamo se le aggiungono In un secondo momento Comunque ragazzi Noto che C16 È molto resistente Un po' come il Cell Che abbiamo visto in precedenza Nell'episodio precedente Addirittura riesce pure a pararsi Se andassi un attimo con questo Lo butto giù No Si è fatto l'evasiva Eppure si Cioè si para pure A me sembra un po' Too much C16 Scusami Nel frattempo Credo ci sia Piccolo Che sta combattendo con gli altri Io però Cerco di concludere un attimino Teletrasporto Si gira Oh e guardalo Distruggiamogli Benissimo Quello che desideravo Concludiamo in questo modo Bene Poi Non c'è bisogno nemmeno Della special Ottimo E qui invece qua sotto Abbiamo gamma 1 e gamma 2 O stavano combattendo Entrambi contro piccolo 2 contro 1 Potrei dire che non è corretto Però è quello che stavamo facendo noi Contro C16 Quindi Alla fine Diciamo che ci hanno ripagato Con la stessa moneta Attenzione che è partito Con la sua suprema Mattissimo Nei confronti di Gohan Poi Ma perché tutto ciò Eh questo è più debole Rispetto a A C16 Cioè mi pare che entrambi Buscano molto di più Poi certo Riescono pure a pararsi È chiaro Però Mi pare riescono a fare Un bel po' di meno Io direi che ci siamo ragazzi Dai con questo Concludiamo Ma sì che concludiamo Via È andata Ottimo Voi gamma siete piuttosto forti Ma scommetto che sapete fare di meglio Ecco Mochelli fa Supervillain Non credo proprio Gamma 1 e gamma 2 Non ce li vedrei mai Offre la casa Cos'è questa roba Non mi direi si potenziano Ma Non me l'aspettavo Però non compare il simbolo Proprio di Timebreaker Quella roba nì No Sono solo Supervillain Vabbè Mi sento molto più leggero Grazie Dottor Fu Ancora questa assurdità Mamma mia ragazzi Mi ha fatto la suprema Occhio Oh ma io c'ho una vita bassissima Ho pensato che usando Su Cell Max Arrebbe stato più facile Controllare il suo potere Ma parla pure di Cell Max I cristalli non stanno funzionando Molto bene Forse non ne ho a sufficienza Chiedo scusa Ma è tempo per me di ripiegare Ti copriamo noi Ah quindi lui se ne va Se ne va perché Mica poi si farà tipo assorbire Da Cell Max Non credo sta roba qua Ho dubito però ragazzi Dai trailer abbiamo visto Che un po' di Cell Max C'era qui Quindi ma dobbiamo vedere In che modo Il personaggio verrà introdotto E facciamo io un attimo Sta suprema un attimino così Via Lo buttiamo giù No Purtroppo no Mi sembra di aver già visto Android 21 Eh Ti sembra di averlo già visto eh Chiedo scusa Ho qualcosa in faccia Perché la stava guardando Dovrebbe essere Sto solo ammirando il lavoro Dietro all'elaborata Epidermide di modelli Come il tuo Eh Capisco Chissà Forse sto solo impazzendo No no Invece non ti sbagli Amico mio Pare che stavolta Te la passerai maluccio Anche perché lui È un parente Del Dottor Gelo E E L'Android 21 È sua moglie È confermato dal film O magari Non credo Sto dicendo una cavolata Ma dovrebbe essere così A questo punto ragazzi C'è gamma 1 Ma gamma 2 Io non ho capito che fine ha fatto Uh Benissimo Parata Ma non gli scende vita Ma chissà per quanto tempo Sono stato qua a combatterlo Inutilmente Eccolo qua Gamma 2 Via A meno che non è diventata Una cosa a tempo Ma non credo eh Via Becchiamolo così Mamma mia ragazzi Così guarda Spammando ste supreme Si potrebbe concludere In due minuti Servitori di Bulma È tutto qui quello che sapete fare? Perché in tal caso Non avete alcuna speranza Tipo una roba del genere Piccolo San Uh Attenzione Si toglie gli occhiali E arriva la Ultimate Form Allora Accidenti fuori dai piedi Sono io il tuo avversario Ma così Dal nulla? Attenzione Filmato Ma come il film Bellissimo Aia Eppure questo è il film Non c'è però Sharon Ma Ma che spettacolo Mi ha ricordato però tantissimo La trasformazione in Super Saiyan God Che fa Goku Nel primo Xenoverse Però scusami Ma qua Sharon non c'era Non c'è stata né un'evocazione Né nulla Cioè sì nel film c'è Lo sappiamo Però qua non se Cioè in questa missione Non se ne è parlato proprio di Sharon Carino comunque il modo in cui Diciamo viene introdotto Orange piccolo Secondo me ci sta la grandissima Sta a guardare Sono il fiore all'occhielo Del lavoro del dottoredo Io Non lascerò che il male prevalga Vi ricordo infatti che Glielo diciamo Ma glielo diciamo che cosa So bene che non siete i cattivi della situazione State solo seguendo degli stupidi ordini Pianta la vostro Gli ordini del dottoredo Sono l'unica cosa che conta E se vi dicessi che il dottoredo Si basa su informazioni sbagliate E diglielo piccolo Scusami Silenzio Allora nel frattempo Io riotterrei la forma beast Se mi permettete Perché almeno così Eh Belli carichi Andiamo ad affrontare un po' Tutti sti nemici Ecco che po' nemici Alla fine ragazzi Che amone gamma 2 Sono più che amici Però in questo caso Sono completamente inconsapevoli Dell'errore che Inevitabilmente Stanno commettendo Occhio Mi sono parato Perfetto Io vorrei provare A fare anche un po' La combo Della forma beast Proprio dei patroller Però ragazzi Si mettono Ah ecco qua Si mettono sempre in mezzo Tutti quanti Questa ragazzi Fa una quantità di danni Pazzesca Uh Parati Eccolo che arriva E mi dispiace amico mio No Orange piccolo Ma scusami E sto a fare la combo Vabbè dai E' andata così Purtroppo loro due Si mettono in mezzo Continuamente Addirittura pure la Lo stamina break Mi ha fatto Cioè guarda Non vuole andare giù E alla fine Ce l'abbiamo fatta Le nostre scuse Dottoredo Te la sei cavata bene Contro un avversario tenace Per adesso ci riteriamo Aspetta un attimo Dottoredo Credo che ci sia stato Un malinteso E cioè? E l'Androidi 6G Non parla Ma che sta succedendo? Conclusione? Aspetta ma qui La storia continua palese Quindi sono Più di due extra mission Non sbaglio Grado Z E come godo ragazzi Otteniamo Illustrazione 482 Top Ed ecco qui Finalmente Vediamo Fu che parla Con il nostro patroller E parla anche con Orange piccolo E Gohan Inizio a credere Che voi non siate I nostri veri nemici Ah l'Androidi 21 Finalmente rinsavisce Benissimo Che poi lì non c'è L'Androidi 21 Scusa Ma numero 21 Ma che stai Dicendo? Dottoredo che fa Impazzisce? Arriva Cell Max? Che succede Dottoredo? E'Androidi numero 21 State bene? Credo di sì Ma siamo in guai grossi Ah vabbè Comunque l'Androidi 21 Era col Dottoredo Ecco perché Credo che i guai grossi Sappiamo quali siano No? La vasca nel laboratorio E' esplosa E Cell Max E' stato attivato Cosa ma come? Possibile che il sistema Della vasca Si sia sovraccaricato Con tutti quei dati? Beh Non c'è tempo Per le teorie ora Se non sistemeremo tutto Questa linea temporale Non Un momento Ragazzi Vi chiedo scusa Ma sarebbe il momento Di fare una tregua Spedirò Cell Max In un posto Lontano da qui Cosa? In un altro posto? Non mi appassiona molto L'idea di far svolgere la storia Nel modo in cui dovrebbe andare E poi così facendo La pattuglia temporale Non avrà scelta Se non quella di aiutarmi Se vuole prevenire Le modifiche della storia Dopotutto Più siamo E meglio è Quindi tutti contenti E tutti insieme Pare proprio che il gruppo Rimarrà unito Quando siete pronti a combattere Seguitemi E non vedo l'ora Oh guarda quanti siamo Ragazzi Nel prossimo episodio Scopriremo sicuramente Il finale Della storia Di questo DLC Non ve lo perdete Lasciate un like Iscrivetevi Alla prossima Ciao Ciao